Cominceranno oggi gli interrogatori dei tre arrestati all'interno dell'inchiesta Oro Pronobis, l'ex direttore generale Dario Rizzi, il commercialista Rocco Di Terlizzi e l'avvocato Antonio Battiante. Un pozzo senza fondo dal quale attingere per qualsiasi esigenza personale, così è stata definita dagli inquirenti la Casa Divina Providenza, l'inchiesta sul crack della struttura sanitaria che ha portato all'arresto di 10 persone e alla richiesta dei domiciliari per il senatore Antonio Azzollini, presidente della commissione bilancio in senato e destinata a proseguire con nuovi scenari. Tra i 25 indagati vi sarebbero tre omissis, nomi che potrebbero essere collegati ad altri prelati del Vaticano. Sarebbero due o forse tre i membri del clero, sul quale la procura starebbe lavorando in gran segreto per riuscire a ricostruire la vicenda. Non si può scordare come tra i sequesti effettuati l'altro giorno vi è il conto corrente di 561 mila euro sulla causa di canonizzazione di Don Pasquale Uva, nonostante esistesse già un altro conto con la stessa causa. E i 27 milioni di euro della Casa di Procura, definita la Cassaforte dell'Ente, che sarebbe servita a mettere al sicuro ingenti capitali. Nel frattempo il commissario straordinario Bartolo Cozzoli ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla magistratura. Il nostro unico obiettivo rimane quello di permettere a questa struttura di tornare a camminare nel più breve tempo possibile sulle proprie gambe ed essere competitiva in un mercato così complesso, spiega Cozzoli. Il percorso che abbiamo tracciato sta producendo i primi frutti, aumento della produttività e riduzione dei costi. Prima che si arrivi all'esecuzione del programma di cessione approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico metteremo in campo altri interventi virtuosi, per questo motivo sarà essenziale proseguire il confronto con le regioni Puglia e Basilicata.